Ecco, in studio con noi c'è l'onorevole Stefania Campo del Movimento 5 Stelle. Allora, onorevole, prima di andare a parlare di due cose riguardo alla cusa che sono interessanti, però ecco, dopo la finanziaria, che anche tu mi vuoi dire se qualcosa ti piace o non ti piace, poi c'è stata la polemica dei soldi a pioggia, insomma, dopo la finanziaria sembra che sia nata la possibilità di qualizzarvi tutti la santa alleanza per battere il governo Schifani. Onorevole, dimmi. Allora, intendo un saluto. In realtà possiamo dire prima della finanziaria, perché c'è stata una bella novità rispetto alle finanziarie precedenti o agli incontri, insomma, legati sempre a documenti importanti a livello d'aula, che c'è stata una grande compattezza di tutte le opposizioni e quindi abbiamo lavorato in sinergia con il Partito Democratico, Sud Chiamanord, in questo caso anche col gruppo misto e siamo riusciti, insomma, a fare leva su alcune cose per cercare di migliorare questo documento finanziario, lavorando per tutte le nottate e le giornate che siamo stati in aula insieme. Già anche in Commissione c'era stata una grande collaborazione anche nel contrastare alcune norme irricevibili, secondo noi. E questo è un primo passo che è chiaramente... Avete fatto una prova di alleanza, diciamo. Sì, sì, perché chiaramente le alleanze non possono arrivare dall'oggio al domani, è chiaro che bisogna partire anche con dei programmi condivisi, un percorso condiviso e quindi è iniziato, questo percorso è iniziato. Io ho visto anche in alcuni comunicati stampa che queste, per esempio quello del Partito Democratico, ecco che si auspicava questa coalizione, devo dire che visto che il nostro movimento non crede appunto nelle coalizioni dell'ultimo minuto, iniziare così e già lavorare su delle proposte condivise è stato buono. Ora noi abbiamo una riunione, questa riunione la faremo venerdì. Noi chi? Noi del Movimento 5 Stelle, tutti gli iscritti, sono chiamati ad una riunione regionale, ci vedremo lunedì, scusate, questo venerdì e sabato e parleremo anche di questo, anche perché in alcuni territori chiaramente le coalizioni sono già partite, si sono anche... Sono ben viste in altre. In altre no, come per esempio nel Messinese, chiaramente soprattutto con il gruppo di Cateno De Luca c'è stata sempre opposizione. Però ecco, Cateno De Luca sta facendo anche da richiamo e poi per guardare anche alle elezioni del prossimo Presidente della Regione, alla fine Cateno vi andrebbe bene, capisco che magari è presto, però si basa tutto lì. Beh, sicuramente ancora è presto e quindi ancora non ci sono nomi e poi li valuteremo tutti insieme. Una cosa è certa, non faremo le primarie. Ecco, non farete le primarie perché se no, come è accaduto l'altra volta... Sicuramente sì, non è stata un'esperienza positiva, quindi ci sederemo tutti insieme su un tavolo per discuterne. Come dicevo ci sono dei territori chiaramente che hanno maggiori difficoltà ad accettare la coalizione, come per esempio a Messina abbiamo avuto noi molti consiglieri in Consiglio Comunale che hanno fatto opposizione allo stesso Cateno. E' chiaro, Cateno ha un suo progetto. Quindi in questa riunione cercheremo anche di discutere con tutti perché affinché insomma poi tutti, anche la base possa... Ma onestamente col PD come ve l'ha passata? Ma col PD noi abbiamo più e più volte fatto coalizione anche in altri comuni dove addirittura amministriamo, faccio l'esempio di Termini Merese, di Caltagirone, giusto per citarne due, non abbiamo chiaramente nessun problema a fare coalizione con il PD, però è chiaro che poi bisogna anche discutere insieme. C'è una cosa a dire e una cosa a fare naturalmente. Sì, ecco, le coalizioni devono essere un percorso con un progetto condiviso, se poi invece sono solamente delle imposizioni con delle cose calate dall'alto, chiaramente non... Certo, onorevole, c'è stato lo scontro, anzi dopo si sono lamentati che questa finanziaria è stata un'elargizione di soldi per tutti, per tutti per modo di dire, cioè invece di fare magari certe cose veramente importanti sono stati dati contributi, voi questo lo condividete? Ma questo è il modus operandi di questo governo, perché è partito fin dall'inizio in questa maniera, cioè anziché investire le risorse per risolvere grandi problemi strutturali di questa regione, i problemi vengono messi da parte, vengono messi sotto il tappeto e si preferisce dare la mancetta ai deputati... Certo, perché il comune quello si piglia 25 mila euro, quello si piglia 50, quelli se ne pigliano 100 mila... E poi sono piccole cose che chiaramente lasciano il tempo che trovano, quando per esempio la questione AST per esempio è rimasta irrisolta, la questione smaltimento rifiuti è rimasta irrisolta, tante questioni che bisognava studiare a livello regionale. Gli aeroporti, insomma ci sono... Ecco, la lasciamo, ma l'aeroporto, io so che l'onorevole Campo si è sempre battuta, anzi siamo stati io e lei i protagonisti di scontri con la SAC, ma si è accorto l'onorevole che tutto tace. È stato messo a tacere come la questione dell'incendio di Catania, che nessuno sa niente, è ricomiso, nessuno dice niente, anzi qualcuno ora, questi due consiglieri dicono, ah dobbiamo rivolgerci alla regione, perché non vogliono ammettere di avere comunque fatto male qui. Non si parla di più di cosa? Sì, non si parla più di aeroporto, ma del resto non se ne parlava neanche prima se non eravamo appunto noi a sollevare le varie problematiche. E prendere un po' in giro col cargo, perché vuoi di più? Poi in giro ci hanno preso e ci prenderanno col cargo, in giro con questo discorso di sopperire al carovoli con dei contributi, anche questa è una grandissima presa in giro, Schifani era partito che doveva fare chiaramente denunce all'antitrust, eccetera, eccetera, e invece dando questo piccolo contributo non ha fatto altro che far alzare ancora di più i prezzi dei biglietti da parte delle compagnie aeree e quindi abbiamo bruciato risorse pubbliche che abbiamo buttato milioni di euro per una piccolissima parte di siciliani che giustamente hanno ragione, ma non abbiamo risolto nulla. Non abbiamo risolto nulla, quasi quasi aveva fatto meglio il suo predecessore musumesci con gli autobus gratuiti per gli studenti a Natale che quantomeno hanno veramente portato i ragazzi e comunque a Comiso, non c'è nessuno, i voli sono. E a Comiso i voli si sono diminuiti, speriamo che sia solo il trend della stagione invernale, ma ne dubito. D'inverno, ma se non ci mettono i voli, siamo sempre lì. Ne dubito e ho timore, ecco, che anche la stagione stessa non va a dare. Allora, va bene, questo a livello regionale, la polemica l'abbiamo sentita anche su televisioni nazionali e regionali. questo governo si è messo in mostra per le largizioni senza un... E beh, ora ci saranno anche le elezioni, quindi a maggior ragione proprio in questa occasione le largizioni sono state anche più sostanziose. ma quello che fa anche male è che il presidente Schifani, per avere più risorse, più potere economico da spendere con i suoi deputati di maggioranza, poi fa trattative con Salvini svendendo anche fondi europei importanti per le nostre infrastrutture, per altre cose come per esempio il ponte sullo stretto. C'è una lettera, firma gli Schifani, dove promette un miliardo e tre per il ponte sullo stretto e il giorno dopo abbiamo ricevuto 300 milioni da poter... Perché prima aveva detto che un miliardo e tre non ce l'ho. E invece ci sono chiaramente anche dei documenti che lo certificano e quindi chiaramente sta svendendo risorse pubbliche per avere maggiore potere di spesa, ma questo potere di spesa non serve per risolvere problemi strutturali importanti della regione, ma per dare mancette ai deputati, poi di questo... Allora, onorevole, però ogni deputato ha, come si dice, l'occhio di riguardo, per il proprio territorio. Abbiamo sentito questa storia della Villa Ottaviano, che sarebbe comunque un milione e passa di euro. Un milione e mezzo? Questa non è una mancetta. No, questo è un lavoro che va avanti da un po' di tempo sul territorio, perché è da tempo, anche quando ero assessore io, che sento appunto i residenti di Marina, che si lamentano di non avere un locale al chiuso dove poter svolgere delle attività. C'è da dire che Marina in questi anni è cresciuta, ha tantissimi residenti, tante famiglie, tant'è che il Comune ha dovuto cedere i locali di Via Brinna alla scuola, perché servivano appunto per... Il Comune non ha una sede. Non ha una sede, io quando l'ho saputo sono andata anche a parlare con Connello di Pasquale, insieme abbiamo invitato qua Marco Falcone, che è venuto a parlare con il Sindaco e in quella circostanza ho presentato l'idea di questo acquisto di Villa Ottaviano, che è vicino alla piazza, in pieno centro. È un bel locale. È prestigioso, che ha anche una sua storia. E non lo so quanto costa, questo è il contributo che abbiamo dato. Ora chiaramente il Comune dovrà fare una trattativa con la proprietà per... Però, onorevole, questa trattativa, nella storia della standa, che poi mi ha spiegato, che è arrivato il proprietario, l'abbiamo avuto ospite qua in studio, il Sindaco e se... Ma queste trattative poi hanno un senso, perché se il Comune vuole un po' disinteressarsene, non la segue e si perde tutto. Sì, purtroppo sì. E proprio per questo abbiamo fatto venire Marco Falcone a Ragusa. C'è stato un impegno preso sia dall'assessore Falcone che dal Sindaco per portare avanti questo discorso di Villa Ottaviano. Cosa diversa, purtroppo il contributo che era stato destinato sempre al Comune per l'acquisto degli ex locali standa, che a quanto pare l'interlocuzione con la proprietà è stata tardiva, perché nel corso del tempo qualcun altro già aveva... Certo, qualcuno che ha detto, ma che bella idea, me la posso prendere io. Se costa poco me la prendo io. Quindi io so che ad oggi il Comune comunque ha inviato tutta la documentazione alla Regione, che si è interessato, però penso insomma che questo affare sfumerà, e con chiaramente anche la perdita di un'occasione, di una possibilità per la nostra città, perché avere l'accesso al Museo archeologico regionale da Via Roma, quindi un ingresso di tutto il rispetto... Ma sarebbe stato tanto. Sarebbe stato più importante, più prestigioso, avrebbe dato maggiore fruizione anche al Museo, che comunque è un bel museo, è un museo che contiene pezzi importanti, e che con l'ingresso di Via Natarelli è totalmente penalizzato. Io ricordo ai telespettatori che giorno 4, domenica, al Museo, come prologo, con Giovanni Di Stefano parleremo delle anfore che sono conservate nel museo, che sono bellissime, c'è quella famosa di Eracle, e quindi chi vorrà potrà, siccome è domenica ed è gratis, si può venire. È vero, è un museo che pochi conoscono, ma che in realtà è uno dei più belli, diciamo, che ci sono in tutta, diciamo, la Sicilia orientale. Allora, onorevole, a questo punto dobbiamo dire questo. Dunque, per Villa Ottaviano i passaggi quali sarebbero precisi, in modo che teniamo l'amministrazione sotto scopa, come si suol dire? Cosa devono fare? Allora, dopo la pubblicazione in gazzetta, l'amministrazione deve già contattare l'assessorato, il dipartimento, l'assessorato, che già comunque è stato anche contattato da me, quindi... Quindi poi deve parlare col proprietario. Poi deve presentare una documentazione che l'assessorato regionale richiederà, che chiaramente è l'interesse di vendita da parte del proprietario, una stima dell'immobile, quindi... Però questi soldi non possono essere ritirati, questi della regione, no? Al momento... Questi, quando il comune fornirà la documentazione, poi la regione farà un decreto... Quindi non è che mentre si arriva lì magari servono a fare il ponte e li levano, non lo so? No, no, sono destinazione vincolata per l'acquisto di Vildo Ottaviano, perché a Marina di Ragusa manca la delegazione, attualmente i locali sono in affitto, quindi ci sarebbe anche un risparmio, evitando, insomma, di pagare fitti passivi. Noi siamo stati sempre... Poi si compra sempre un locale prestigioso e comunque un capitale, insomma. Sì, c'è anche un bel giardino al suo interno, un portico con un affresco pompeiano... Beh, lo potevo comprare io, ma non c'avevo bisogno. E anche un locale che ha una valenza storica, e quindi... E' bello, è bello, si vede. Possiamo togliere un attimo l'onorevole regia, tanto per vedere... Ecco, è bellino questo con queste bitrifore, no? E' bello. Va bene, allora, grazie all'onorevole Campo vedremo come vanno a finire queste cose e vedremo anche come va a finire questa questione dell'alleanza, perché se l'alleanza va in porto, la prossima sarà una bella battaglia. Eh, come abbiamo più volte ribadito in aula, noi non siamo minoranza, perché se uniamo... Se ci mettiamo insieme... Se uniamo, diciamo, anche il consenso che ha avuto il Movimento 5 Stelle, Sud chiama Nord e il Partito Democratico... Siamo di più. Abbiamo numeri ben superiori a quelli dell'attuale maggioranza, quindi... Grazie onorevole Campo, andiamo avanti con il telegiornale.